Una violenta rissa sprangata è avvenuta in pieno centro storico a pochi passi da Piazza dei Signori nel corso della Notte Bianca, scena che era stata immortalata da alcuni passanti e poi girata sui social su cui si sono concentrate le indagini della squadra mobile di Vicenza che hanno chiuso il cerchio identificando e denunciando quattro soggetti. Gli accertamenti investigativi hanno portato all'identificazione dei quattro soggetti, tutti maggiorenni di età compresa tra i 22 e 35 anni denunciati per il reato di rissa.